Il Chelsea programma un addio a titolo definitivo per Lumelu Lukaku per il 2024. Per acquistare il cartellino del classe 93 serviranno 37 milioni di sterline, cioè 42,7 milioni di euro al cambio attuale con 7 gol in 8 partite fra campionato e Europa League. Non è da escludere che Lukaku possa decidere di recarsi alla Roma per i prossimi anni, lasciando a quel punto ai Fridin la scelta sulla fattibilità e la convenienza di una spesa di 42,7 milioni di euro per un attaccante che il prossimo anno festeggerà 31 anni. Arabia, Juve e Mila, la concorrenza senza mai trascurare il mercato arabo, potrebbe tornare alla carica la Juventus, vicinissima a Lukaku due volte, nella sua storia recente, ma non è da escludere anche un interesse del Mila alla ricerca di un sostituto per Giraud che nel 2024 compirà 38 anni. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, campanella notifica e un commento. Ciao!